I tre segreti della fontana del Nettuno Il primo segreto della fontana del Nettuno, per vedere il fallus impudicus del Nettuno si dica occorra cercare nella piazza antistante una pietra nera, detta pietra della vergogna. Da quel punto il pollice del Nettuno sembrerà essere un fallo in erezione. L'effetto si può comunque vedere anche avvicinandosi alla sala borsa. Un secondo segreto della fontana del Nettuno è molto meno conosciuto anche se parlante. La sua presenza è un un evidente collegamento al concilio tridentino, è dedicata al dio pagano Nettuno il cui tridente, tridente e tridentino, schiaccia l'eresia rappresentata dai culti protestanti, luteranesimo, calvinismo, ecc. Qualcuno dice che il gesto del Nettuno nell'atto di placare le onde fosse un avvertimento papalino verso l'inquieto popolo bolognese rappresentato dalla piazza maggiore. Il terzo segreto del Nettuno è che il suo tridente ha ispirato il celebre logo della Maserati. La Maserati nacque infatti non a Modena, ma a Bologna in via dei Pepoli il primo dicembre 1914, come ricorda posta sull'edificio del civico un barra A. Grazie. Grazie.